Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia, provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Ricordiamo che i comuni di Firenze e dell'agglomerato urbano hanno emesso ordinanze perché si è osservato il blocco dei mezzi più inquinanti fino a domenica 12 gennaio. Maggiori informazioni sui nostri canali social. A Firenze e in via Livorno da domani sarà chiusa per lavori ai guardrail la rampa di accesso al viale Etruria dal lato di via Simone Martini. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!